E adesso? Ale, siamo alla fine. Siamo alla fine. Ci vuole una cosa emozionante. Un po' di atmosfera, qualcosa che ti riempie proprio la serata. Una voce calda, di quelle piene. Che dici? Ci sentiamo un'emozione da poco? Anna Oxa! Eccola! Eccola! Che non ha mai perduto, mai per te, per te, una canzone. Mai una povera illusione, un pensiero banale, qualcosa che rimane invece. Per me, per me, più che normale. E' una grande emozione da poco, mi faccia stare male. Una parola detta piano, basta già. Ed io non vedo più la realtà. No, io non vedo più la realtà, né quanta tendezza ti ha. La mia violenza, pensare che rifesti benissimo anche senza. La mia violenza, pensare che rifesti benissimo anche senza. La mia violenza, pensare che rifesti benissimo anche senza. La mia violenza, pensare che rifesti benissimo anche senza. La mia violenza, pensare che rifesti benissimo anche senza. La mia violenza, pensare che rifesti benissimo anche senza. La mia violenza, pensare che rifesti benissimo anche senza. La mia violenza, pensare che rifesti benissimo anche senza. La mia violenza, pensare che rifesti benissimo anche senza 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 Grazie, grazie Anna, vieni qua con noi, stai qui con noi, ciao, chiamiamo con noi anche Andrea Salvetti, ciao a tutti, ciao Anna, che meraviglia eh, che bel ragazzo eh, è questa città ci ha commosso, ci ha commosso, io però sono rimasto commosso anche da un fatto che ricordavamo dietro le quinte e io vorrei cogliere l'occasione per ricordare che il tuo primo Sanremo lo facesti quando con questo pezzo, un'emozione da poco, sette anni con il tuo papà, con il mio papà e io credo, ho cominciato con lui, esatto e io credo che non ci sia una terra migliore per ricordare mio papà, chiamava, grazie, chiamava il che ama questa meravigliosa regione, qualche anno fa c'eri anche tu, insieme ad Antonio Bassolino che ringrazio e ricordo portammo il Festival Bar, portò mio padre il Festival Bar a Napoli, fu un anno straordinario, duecentomila persone in piazza, duecentomila persone nelle piazze vicino e negli anni il rapporto con Antonio si è consolidato, quest'anno abbiamo voluto toccare un'altra terra, un'altra parte di questa terra e voglio ringraziare anche il Presidente della Provincia ma devo ringraziare soprattutto voi, grazie. Grazie, grazie a te, è un pubblico passionale, caloroso e tutto questo sicuramente Vittorio lo sta guardando. Ne sono certo, grazie. La nostra seconda puntata di Benevento è finita qui, io vi prometto che torneremo ve lo prometto perché ci siamo trovati davvero molto bene e come dicevo prima ci avete commosso sul serio, guardate. Il Festival Bar continua la prossima settimana da Taormina, voi ci potete continuare a seguire sul nostro sito internet e sul sito di Mediaset Online, i complimenti a questi tre ragazzi che davvero ogni volta saranno sempre meglio e un bacione, un ringraziamento e un arrivederci in una delle prossime puntate prestissimo ad Anna Oxa. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie ragazzi, grazie. Ciao ragazzi.